La sensazione che la situazione stia sfuggendo di mano ormai è più che una sensazione. I contagi aumentano e nemmeno la zona rossa sembra riuscire a frenare la corsa del virus e delle sue varianti che dilagano nell'area metropolitana Pescara Chieti rendendola caso nazionale. Le inchieste sulla gestione dell'emergenza si moltiplicano. Prima quella sui dati della pandemia necessari per elaborare colori e restrizioni. L'ipotesi di reato qui da parte della procura di Pescara è omissione di atti di ufficio. Sabato poi è arrivata anche la figuraccia del Palabecci di Pescara con il personale docente over 55 chiamato a vaccinarsi e in fretta e furia rimandato a casa per una fantomatica mancata circolare ministeriale che autorizzasse la somministrazione del siero AstraZeneca per quella fascia d'età. Anche qui si indaga perché il sospetto è che quelle dosi nella migliore delle ipotesi siano state sprecate o che peggio siano andate agli amici degli amici chiarirà la magistratura. C'è poi tutta la querelle su quanti vaccini sono stati fatti pochi secondo l'opposizione in consiglio regionale che sbandierà dati da ultimo posto in Italia. No siamo tredicesimi ribatte l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì che invita a non fare polemiche classifiche. C'è poi un'altra granata pronta a scoppiare che però presto potrebbe rivelarsi una vera e propria bomba nucleare. Una voragine nei conti della sanità da 90 milioni di euro. Sui nostri ospedali dunque torna ad aleggiare lo spettro del commissariamento che agli abruzzesi non evoca bei ricordi per i nove lunghi anni di lacrime, sangue e tagli che stiamo pagando tutti soprattutto adesso nel pieno della pandemia. A tutto questo c'è da sommare il caos nella Asla Aquilana dove la manager testa è stato sfiduciato dallo stesso centrodestra che lo ha nominato per i ritardi nel piano di adeguamento degli ospedali e il covid hospital di Pescara ormai dichiarato pieno. Insomma non c'è da dormire sonni tranquilli con un abruzzo a metà tra il rosso e l'arancione, con ordinanze che vietano assembramenti che però si verificano ugualmente, con i tamponi molecolari che faticano a seguire il virus e con i rapidi in uso in abruzzo sui quali i consiglieri regionali pentastellati hanno sollevato dubbi sulla qualità degli approvvigionamenti e sulla sensibilità dei test che sarebbe inferiore a quella consigliata dal ministero. Ad un anno dall'inizio della pandemia i bonus sono finiti così come gli sconti per inesperienza sulla sua gestione. Se si chiede come giusto e sacrosanto responsabilità alla cittadinanza e se ne chiede di più e molta di più alla politica e a chi governa la regione. Il tempo sta per terminare ed occorre una strategia certa per vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, l'unica strada per uscire fuori dal tunnel del virus e della crisi economica.